La compagnia dell'Aquila Bianca con la Real Cavallerizza di Napoli e Radio Amore vi invitano al Grangala Equestre alla Corte del Re. Sabato 30 aprile dalle ore 10 in poi al Bosco della Reggia di Capodimonte, ingresso libero. Giochi, esibizioni equestre, carrozze d'epoca, scherma storica e tanto altro. Domenica 1 maggio alle ore 11 non mancate alla giostra dei sedili presso l'ippodromo di Agnano. I cavalieri si sfideranno in una spettacolare tenzone. Non mancherà una sfilata in costumi d'epoca. Un tuffo nel nostro glorioso passato per proiettarci con fiducia nel futuro.